Ciao ragazzi, sono Femme Marulli e siamo al video di oggi che farò la 24 ore sul divano challenge Vi voglio dire che questa challenge è un po' impossibile perché devo rimanere ficcato su un divano per 24 ore Comunque, raga, voglio salutare in questo video Luca Marulli, poi Manola Marulli, poi Mara Pastori e infine Valentina D'Alan Non sarà tanto semplice questo Il tempo fuori non è dei migliori Piove Siamo ad un minuto Stiamo su questo divano, raga Un minuto Io ho sete Tengo fama E' da dire pure all'Urban perché devo pisciare quindi Al gabineto quello che è Ma si deve resistere Si deve resistere Si deve resistere Porca miseria Forza e coraggio signori Forza e coraggio Forza e coraggio Ce la facciamo a far quel Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo C'è un'agonia E' un'agonia E' un'agonia E' un'agonia E' proprio un'agonia E' un'agonia E' un'agonia E' un'agonia E' un'agonia Agbo Non già faccio il piume Mi sono azzato raga Mi sono azzato dal divano E quindi Ragazzi ci vediamo Un prossimo video Ciao